Continui i disservizi di natura tecnica presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, da circa una settimana l'ascensore situato all'ingresso principale dell'ospedale vallese è guasto, con un carterlo che riporta la scritta fermo per manutenzione. Non è la prima volta che l'ascensore si guasta, secondo alcuni utenti, sono tre mesi di disservizi in un anno, da quando la nuova gestione ha appaltato la manutenzione. Gli utenti, ma anche il personale sanitario dello stesso ospedale, è stanco di questa situazione. Poi, con il caldo di questi giorni, fare le scale diventa davvero pesante, soprattutto per le persone anziane, che devono recarsi ai piani più alti. Disagi anche per il personale sanitario, che ogni giorno deve combattere con questa situazione. Cambiate mestiere, ha scritto qualcuno sul cartello affisso al muro. Questo ascensore è da rifare. Gli impianti dell'ospedale sono ormai datati ed hanno bisogno di manutenzione quotidiana da parte di personale esperto e qualificato. Lo dicono i sindacati di categoria e da più di un anno, dal luglio 2018, che spesso si ci ritrova nella stessa condizione. Ad oggi la situazione non sembra affatto migliorata.